Grazie a tutti. 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 Nel secondo mistero vogliamo contemplare la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Mistero che vogliamo costruire per tutti gli appanati di Tampoli. Grazie a tutti. 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 providenza infinita per i grandi segni del tuo amore proposti nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno toccato le vie del mare, perciò grazie signori nostri padri che ci sardizzano i segreti e i navigati, ci hanno insegnato a vedere nell'immensità delle acque o le orme della tua presenza e con i suoi membri di questa difficile acque ci hanno accompagnato la costola di quella scena che fin dalla primietà o ridin sua briga o ridin sua briga o ridin sua briga Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e il tuo regno, sia fatta la tua volontà come il cielo, come il terra Padre Maria piena di grazie, signore contento e benedetta tra le donne benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Padre Maria piena di grazie, signore contento e benedetta tra le donne benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Padre Maria piena di grazie, signore contento e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Padre Maria piena di grazie, signore contento e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù e ha commesso con la formazione della gioventù nel progresso delle discipline scientifiche della cultura umanistica perché guidate dalla parola di verità seguono i due progetti e con tutta l'anima aderiscono a Cristo Maestro e il Signore e gli vi verregna nei secoli dei secoli gloria al Padre, al Signo e allo Spirito Santo gloria al Padre, al Signo e allo Spirito Santo gloria al Padre, al Signo e allo Spirito Santo Santi, Gioacchino e Danna gloria al Padre, al Signo e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, amè per il suo mistero e la nascita di Gesù nella grucia di Penteleme vogliamo anche tutti i giovani per chi possa nascere Cristo nel cuore di tutti Padre nostro che stai nei cieli stai santificando il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra Godre gloria al Padre, al Signore che non è un Signore con te tu sei la benedetta per la redonda benedetta per il frutto del coseno Gesù Ave Maria piena di grazia del Signore e del Consiglio Gesù è benedetta fra le donne benedetta il frutto del Consiglio Gesù